Incarichi, compensi e contratti fra Sogepu e la neosocietà Sogeco, costituita da Sogepu al 49% con la maggioranza assoluta del 51% di Ecocave. Sono questi alcuni quesiti a cui l'esponente di Castello Cambia, Emanuele Arcaleni, vuole cercare di avere risposta dal sindaco e dalla giunta. Proprio per questo motivo ha presentato un'interlogazione per comprendere i rapporti economici finanziari tra Sogeco e Sogepu e i suoi dirigenti. Vogliamo comprendere se i vertici del nostro comune, gli amministratori sindaco e giunta fossero consapevoli e a conoscenza di questi doppi incarichi, vale a dire del fatto che l'amministratore unico di Sogepu nel 2021 avesse già sottoscritto un contratto come direttore generale della nuova società Sogeco e per il quale ha ricevuto un compenso di circa 30.000 euro nel 2021 e di 60.000 euro nel 2022 nel momento in cui era ancora naturalmente amministratore della nostra partecipata principale perché solo a giugno del 2023 è stato sostituito con un nuovo CDA, ben dopo l'inizio delle indagini della Procura. La stessa questione simile, anche se non del tutto uguale, riguarda il direttore tecnico Spazzoli, vale a dire che ha sottoscritto nel luglio 2021, sempre con Sogeco, un incarico di direttore come direttore tecnico e ricoprendo lo stesso ruolo in Sogepu. Dal 2023 iniziano i compensi anche per il direttore tecnico e vorremmo capire se si tratta di un doppio incarico, se si tratta di stessa materia e quindi abbiamo bisogno di chiarezza da parte dei nostri amministratori, se di tutto questo loro fossero a conoscenza e cosa ne pensano. L'esponente dell'opposizione ritiene inoltre necessario e doveroso nei confronti dei cittadini ha scritto che stanno ricevendo in questi giorni le cartelle di pagamento dell'Atari aumentato del 4,60% che si faccia massima chiarezza sull'unatura di tali costi e rapporti.